Musica Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Milla Ben trovati come sempre all'appuntamento con Toscana Oggi Si parla questa settimana di un argomento ovviamente che è al centro dell'attenzione Ed è quello che riguarda ancora il disegno di legge sulle unioni civili Che come sappiamo è stato approvato al Senato ricorrendo al voto di fiducia Adesso è in attesa di essere presentato e votato alla Camera Quel matrimonio di fatto senza parlare di matrimonio Questo è il titolo del nostro commento Questa settimana si dice che questo disegno di legge in qualche modo Senza mai parlare di matrimonio Ma in realtà assimila di fatto le unioni civili omosessuali al matrimonio Soprattutto per i continui rimandi agli articoli che riguardano proprio il rapporto tra coniugi Ed è una questione che continuo a far discutere Ne sono testimonianza le tante lettere arrivate in questi giorni alla nostra redazione Tanto che dedichiamo l'intera pagina delle idee questa settimana ad alcune di queste lettere Quello che abbiamo potuto recuperare ma sono soltanto una minima parte rispetto a quelle arrivate In ogni caso i lettori hanno molto sentito questo tema Intervengono e le posizioni, dobbiamo registrarlo, sono essenzialmente critiche Del resto ospitiamo anche un'intervista ad un giurista, ad un docente di diritto privato Antonio Gambino, il quale conferma che nonostante le correzioni Sappiamo che ci sono stati degli stralci C'è stato alcuni articoli che sono stati rivisti del disegno di legge Però nonostante queste correzioni rimane un paramatrimonio Quello appunto degli unioni civili omosessuali Questo è anche il parere dell'esperto E si parla anche, si è parlato, questa è la parte stracciata Della cosiddetta adozione del figlio del partner Si parla quindi anche di questo argomento Da una parte si reputa che il figlio possa essere un diritto Dall'altra dobbiamo però anche registrare la scarsità delle nascite Insomma c'è un po' tanta contraddizione nel pensiero attuale Quindi siamo di fronte anche ad un altro problema Ovviamente che non riguarda assolutamente il disegno di legge di cui ci siamo occupati Che è quello delle culle vuote Purtroppo nel 2015 in Italia sono nati soltanto Pensate davvero è una cifra impressionante Soltanto 488 mila bambini Ovvero sia 15 mila in meno rispetto all'anno precedente Questo è il dato peggiore dai tempi dell'unità d'Italia Però cosa fa l'Italia per risolvere questo problema? Sulla carta diciamo che l'Italia non sfigura a confronto con gli altri paesi Per quanto riguarda la protezione della maternità e della paternità Delle iniziative ci sono, sono anche abbastanza interessanti Però questo non è sufficiente Ancora ci vogliono ulteriori politiche a favore della famiglia Proprio per poter favorire un ritorno alle nascite Quindi finalmente riempire perlomeno una parte di queste culle vuote Andiamo sulle pagine in cui ci occupiamo della Toscana Di quello che succede nella nostra regione Troviamo il convegno a Prato Dell'Associazione dei Maestri Cattolici Da 70 anni al servizio della scuola elementare Questo è il titolo L'associazione festeggia infatti I 70 anni era il 1945 Quando fu fondata a Roma L'obiettivo era quello di assicurare una migliore formazione Soprattutto per i maestri E adesso ancora l'associazione è attiva E affianca tanti maestri nel loro impegno quotidiano Sono 816 gli iscritti in Toscana Continuiamo ad occuparci di sport In particolare dello sport Proposto dal Centro Sportivo Italiano Ne parliamo abbastanza sul nostro giornale Ma perché riteniamo che lo sport Quando è praticato in modo serio e disinteressato Possa avere davvero un forte valore educativo E diamo conto questa settimana Di un importante convegno Che si è svolto a Firenze Presso il Museo del Calcio di Coverciano Praticamente a due passi Da dove si allena la Nazionale Italiana di Calcio C'è stato un incontro dedicato a dirigenti e tecnici del settore Che però hanno questa particolare passione educativa Che caratterizza tutta l'attività del Centro Sportivo Italiano Andiamo sulle pagine di informazione religiosa Abbiamo visto nel mercoledì delle ceneri Papa Francesco dare il mandato Ai cosiddetti missionari della misericordia Circa mille preti che in tutto il mondo Devono essere, detto il Papa, il segno della misericordia di Dio In Toscana tra i preti che hanno ricevuto questo mandato C'è Don Maurizio Volpi È parroco di Coiano vicino a Castelfiorentino Siamo in diocesi di Volterra E in un'intervista Toscana oggi racconta questa sua missione Questo suo compito appunto di essere segno di misericordia Parla in particolare del tema della confessione Il sacramento della riconciliazione Dice confessarsi non significa solo vuotare il sacco dei peccati Non è solo un'operazione che cancella in qualche modo Che svuota il sacco dei nostri peccati Ma deve essere anche un'esperienza di accoglienza da parte di Dio Deve permetterci di sentire, di fare esperienza del perdono E parliamo anche di Emmaus Della comunità fondata dall'Abbe Pierre Perché ha scelto l'Italia per la prossima assemblea mondiale E che sarà dedicato ovviamente come tradizione la comunità stessa Alla povertà, la povertà come ideale di vita per opporsi alla miseria Per l'esattezza la località scelta è quella di Iesolo Dove questa assemblea internazionale di Emmaus Si svolgerà dal 18 al 23 aprile prossimi Una notizia ancora dalle pagine di formazione religiosa Quella che viene da Lucca Dove è stata annunciata la chiusura Sarà il 9 ottobre La chiusura della fase diocesana Del processo di beatificazione per il vescovo Bartoletti Monsignor Bartoletti dunque è stata aperta ormai da alcuni anni La causa il 9 ottobre si chiude la fase diocesana E tutto dunque passerà poi alla congregazione per le cause dei Santi a Roma E andiamo sulle pagine culturali di Toscana Oggi l'inserto in inventario, la cosiddetta copertina È dedicata questa settimana alle figure femminili nella Bibbia Nella Bibbia le storie di donne come noi Si porta a un colloquio con la biblista itinerante Si definisce così Antonella Inghinoni Oppure cantastorie di Dio Che racconta appunto questa importante presenza Al di là di tutto delle donne nella Bibbia La mia porta santa, il giubileo della misericordia Si presta anche a racconti personali Stavolta è lo storico Franco Cardini Che racconta da Fiorentino appunto il suo rapporto con il giubileo La sua porta santa La porta santa in cui ha scelto di vivere il pellegrinaggio giubilare Però non è la porta della cattedrale di Firenze Ma è un'altra delle chiese indicate dal Vescovo di Firenze Come chiese giubilare Cioè la Basilica di Santa Maria all'Impruneta Una chiesa molto amata dai fiorentini Ma che copre anche un ruolo particolare Lo racconta appunto Franco Cardini Nella sua storia personale E dice varcando la porta laterale di questa Basilica Santuaria Ho sentito il bisogno di percorrere il mio itinerario penitenziale E se fosse un quadro chi vorrei essere? C'è una storia curiosa che è nata a Firenze Da un gruppo di studentesse Che quasi per gioco hanno provato a dare vita ai quadri Cioè a rappresentare, a rendere vivi i quadri famosi A partire dai quadri del Caravaggio Insomma sono sette studentesse che hanno avuto questa idea E che adesso organizzano proprio la riproduzione dal vivo Di quadri famosi E qui hanno creato una pagina Facebook E come sempre succede sempre più frequente in questi tempi E qui ci sono dei fenomeni che diventano fenomeni mediatici Fenomeni virali come si dice Cioè fenomeni che alla fine si diffondono rapidamente Attraverso i social network E questo è successo anche a questo gruppo di ragazze Che ha avuto questa idea di lanciare questa iniziativa Se fossi un quadro In qualche modo l'arte al contrario L'arte che prende vita Andiamo sulle pagine locali Sulle varie edizioni locali di Toscana Oggi Iniziamo da Firenze Dove troviamo intanto l'annuncio di una notizia Monsignor Giacomo Meneghello È stato inserito nell'elenco dei giusti fra le nazioni Le persone che durante la Shoah Durante le leggi razziali in Italia Hanno aiutato tanti ebrei a sopravvivere A nascondersi A salvarsi dalla deportazione dai campi di concentramento Monsignor Meneghello è il segretario storico Del cardinale Elia Dallacosta Che seguì Dallacosta Era già suo segretario anche a Padova Lo seguì a Firenze E a Firenze Ha collaborato anche con il cardinale Dallacosta Nell'opera che l'arcivescovo di Firenze Fece, mise in pratica Durante l'occupazione tedesca Della città Per trovare nascondiglie A tante persone A tante famiglie ebree In parrocchie Conventi E dopo che il cardinale Dallacosta È già stato riconosciuto Tra i giusti delle nazioni Insieme a lui Anche altri sacerdoti Fiorentini Don Letto Casini Don Giulio Facibeni Anche alcune suore Come madre Tribbioli E un personaggio Come Bartali Come il grande campione Di ciclismo Bartali Adesso tocca appunto Al segretario Di Dallacosta Anche lui Evidentemente giocò In questa fase In questa rete Di protezione Per gli ebrei Un ruolo importante E come abbiamo accennato Rimaniamo sulle pagine fiorentine Dell'osservatore toscano Per dire dei ministri La comunione Che questo mandato Che il cardinale Betori Ha assegnato A 66 I nuovi ministri straordinari Ricordiamo anche sempre Dalle pagine di Firenze La figura di Enrico Marinelli Che è stato un mecenate Un mecenate fiorentino Deciduto all'estero E' stato ricordato In una messa Celebrata Dal direttore Del Museo dell'Opera Del Domo di Firenze Monsignor Timoti Verdon Anche Segnaliamo Dalle pagine fiorentine Anche un compleanno Speciale E' quello di Padre Adelmo Puccetti Che ha compiuto Pensate un po' 105 anni Nei giorni scorsi Al convitto ecclesiastico Dove risiede La struttura Che accoglie I preti anziani Della diocesi Di Firenze Padre Puccetti E' stato festeggiato Insieme ai suoi confratelli Abbiamo già accennato Anche a Enrico Bartoletti Di cui si chiude Sostanzialmente La causa diocesana Ritroviamo questa notizia In grande evidenza Sulle pagine Di Lucca 7 Dove Bartoletti E' stato Arcivescovo Però qui si parla In particolare Questa volta Degli anni In cui E' stato Segretario Generale Della conferenza Episcopale Italiana E ancora Dalle pagine Lucchesi Di Toscana Oggi Segnaliamo Un avvenimento Un appuntamento Per i prossimi giorni Quando lunedì 14 marzo Sarà a Lucca Il Cardinale Casper Uno dei teologi Così si dice Più ascoltati Da Papa Francesco A lui si deve Fra l'altro La grande insistenza Sul tema Della misericordia Appuntamento A Lucca Il 14 di marzo E di misericordia Si parla anche Sulle pagine Di Siena Con le Valdelsa Montalcino Del resto E' il tema Di quest'anno Giubilare Ed è dedicata A questa anche La Quaresima Le iniziative Quaresimali In Diocesi In Diocesi Senese In particolare Con la Catechesi Appunto Dedicata Alla misericordia Il cui percorso Parte dal Tema Della purificazione E si parla Di Giubileo Anche sulle pagine Di Prato Della Diocesi Di Prato Dove questa domenica C'è il Giubileo Delle parrocchie Quattro processioni Che convergeranno Insieme In Cattedrale Per la Missa Poi presieduta Dal Vescovo E ci spostiamo Sulle pagine Di Arezzo Cortona Sansepolcro La voce Per dare notizia Che dopo tre anni Di restauri Riapre al culto La chiesa Di Sant'Ippolito E Donato Siamo a Bibiena Bibiena Che è in festa Proprio perché Ritrova la sua Propositura Come detto Dopo tre anni Di lavori A San Mignato Invece Diocesi Di San Mignato Si segnala La via cruci Sin Pensieri E Musica La prima Esecuzione Di questa nuova Opera Di Beppe Dati Il musicista Paroliere Fiorentino Che ha Lavorato Con tanti grandi Della canzone Italiana Marco Masini O Mia Martini O Laura Pausini Che ha vinto Ha ottenuto Piazzamenti Importanti Varie edizioni Di Sanremo Già alcuni anni fa Si era misurato Con la storia Di Gesù Aveva dato vita A un'opera Il mio Gesù Che è stata rappresentata Proprio al festival Del dramma popolare Di San Mignato Che fra l'altro Fra pochi giorni Avrà una nuova rappresentazione Invece A Pistoia Al teatro Manzoni Di Pistoia Stavolta Invece Si è concentrato Diciamo così Sulla Via Crucis In particolare Su Quelli che Secondo la sua Ricostruzione Secondo la sua Interpretazione Sono Le parole Di Gesù O i pensieri Di Gesù In questo Percorso Verso Il Calvario Un'opera Musicale Dunque Che avrà La sua Prima rappresentazione Questa domenica Nella cattedrale Di San Mignato E ci spostiamo In Diocesi Di Grosseto Siamo sulle pagine Di rinnovamento Il sacerdote Bussa Una porta Si apre In il servaggio Delle benedizioni Questo è il racconto Che viene fatto Delle visite Di alcuni sacerdoti Appunto In Diocesi In questo periodo In cui Per tradizione Avviene la benedizione Delle famiglie Un'iniziativa Ancora Molto sentita C'è ancora Sufficiente Accoglienza Dei sacerdoti Che si presentano Appunto Nelle case Delle varie Diocesi Quindi si racconta In particolare Questa esperienza Di alcuni sacerdoti Come detto In Diocesi Di Grosseto Ma riguarda In questo momento Un po' Tutte Storia dell'Islam Legata Al suo libro Il Califato E l'Europa Dalle crociate All'Isis Mille anni Di paci E di guerre Scambi Alleanze E massacri Un libro Dunque Che ci aiuta A ripercorrere Quello che è stato Il rapporto Tra occidente Mondo islamico Attraverso i secoli E ci aiuta Anche a capire Quello che sta Succedendo In questi nostri Anni difficili Cronaca Di un successo Annunciato È il titolo Che racconta Proprio quanto Questa conferenza Visto il relatore Visto il tema Davvero attuale E interessante Abbia riscosso Appunto Un grande successo E questa era La nostra ultima notizia Per quanto riguarda La rassegna Di questa settimana Di Toscana Oggi C'è forse il tempo Per ricordare Anche che Tutti gli aggiornamenti Tutte le notizie 24 ore Di fatto su 24 Si possono anche Ritrovare Sulle pagine web Di Toscana Oggi Sul sito Web di Toscana Oggi Ricordo www.toscanaoggi.it Dove ci sono anche Tantissime altre notizie Oltre a quelle Di cui abbiamo parlato In questo nostro appuntamento C'è l'aggiornamento Continuo E quindi trovate Anche tutte le altre Notizie Che arrivano Dalla Toscana Un'opportunità Poi per chi Volesse Anche approfondire Volesse Vedere Anche il settimanale Cartaccio Ricordiamo Che lo può anche Richiedere In visione gratuita Per lo meno Per un mese Scrivendo Alla redazione Di Toscana Oggi A Firenze In via Dei Pucci 2 50 122 Firenze Appunto E con questo È davvero tutto Un grazie Per l'attenzione E come sempre Appuntamento Alla prossima settimana Alla prossima Alla prossima